amici di milan.soccer ci siamo oggi è il giorno ufficiale esce il libro di milan.soccer ma tu ami più me o il milan guardiamo un video tu ami più me in realtà questo è un book game cos'è un book game è un libro gioco nella prima parte ci sono tante curiosità la nostra storia dati statistici leggende ad esempio lo sapevate che il milan fu soggetto ad un incantesimo proprio così qui trovate tutto scritto trovate tante 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 notizie tanti nomi tante date tanti gol nella seconda parte si gioca 50 domande dedicate al milan e 50 domande dedicate alla coppia poi alla fine si vedrà se avrete risposto più alle 50 domande dedicate al milano alle 50 domande dedicate alla coppia e allora potrete dire se amate più il milan o il vostro compagno o la vostra compagna questo libro è dedicato a loredana e ha donato e poi è dedicato a guerino potrete acquistare il libro cliccando nel link in descrizione non resta che acquistarlo giocare fateci sapere come andata aspettiamo le vostre notizie io l'ho fatto come andata lo saprete alla prossima non ve lo posso dire ma tu ami più me o il milan